L'incidente nella mattinata di lunedì 25 novembre intorno alle 11 in via Cavalli Arfaletti a Feletto. È accaduto nel cantiere aperto per lavori di ristrutturazione in una casa. Il proprietario di un'abitazione è caduto dalla scala. Sul posto sono prontamente intervenute le due ambulanze del risoccorso 218, i carabinieri e la polizia locale di Feletto. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Al momento non si hanno notizie sul suo stato di salute, se non che era cosciente, ha certamente incorso sull'accaduto. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, non che era cosciente, non che era cosciente, non che era cosciente, non che era cosciente. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, non che era cosciente, non che era cosciente. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, non che era cosciente. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, non che era cosciente. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, non che era cosciente. Grazie a tutti.